Taglio del nastro per il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, attesa da 20 anni e una delle strutture più moderne d'Italia. Nel nuovo pronto soccorso sono stati dedicati percorsi speciali, attrezzature e avveniristiche. Oggi l'inaugurazione della struttura, soddisfatto il primario Alberto Albani, che ha partecipato all'inaugurazione assieme al personale sanitario, alle autorità, al presidente della regione Marsiglio e all'assessore alla sanità Veri. Dottore, dopo 20 anni, finalmente l'inaugurazione del nuovo pronto soccorso? Sì, esatto. Questa è una data importante per la città di Pescara, per la popolazione della città, perché dopo, come diceva lei, 20 anni, finalmente, dopo tanto tempo, troppo tempo, finalmente abbiamo un pronto soccorso all'altezza dei tempi. È un pronto soccorso moderno, molto funzionale, molto bello e che finalmente associa ad una qualità reale molto alta, come lo è sempre stato in corso di questi anni, anche ad una qualità percepita alta. Possiamo parlare di qualche numero? Sì, il pronto soccorso di Pescara è il più grande dell'Abruzzo, con i suoi quasi 100.000 accessi, è il tredicesimo pronto soccorso in Italia. Le strutture più blasonate, come può essere il Niguarda, il San Raffaele, il Gemelli o le Molinette, sono tutte di gran lunga al di sotto di noi come numero di accessi. Quindi è un pronto soccorso veramente importante. Tra l'altro è sede di trauma center regionale, quindi noi facciamo tutta la traumatologia della regione, quello è più importante. Quando sarà aperto al pubblico? Un tempo 7-10 giorni e sarà operativo. Fondi? I fondi sono stati stanziati appunto dalla regione in varie tranche per un costo complessivo di oltre 6 milioni di euro, che però considerando la superficie di oltre 3.500 metri quadri è una cifra relativamente bassa perché abbiamo delle attrezzature modernissime, compresa anche una tacca a 128 strati. Sono stati aggiunti altri 20 infermieri e altri 20 osse al personale che già avevamo. Il problema grosso che abbiamo è la carenza di persone medico, ma questo è legato al fatto che non si trovano a livello del territorio nazionale. Manca proprio per una cattiva programmazione a livello nazionale, mancano proprio i medici. Abbiamo tutto un percorso di Covid evidentemente che in caso di ripresa, speriamo di una della quarta ondata, seguiranno un percorso e quindi saranno completamente isolanti rispetto al resto degli utenti non Covid. Sessa soddisfazione naturalmente dal presidente della regione Marsiglio. È sicuramente una notizia importantissima non solo per la città di Pescara, ma per tutto il sistema dell'emergenza urgenza abruzzese, avere a disposizione un presidio così tecnologicamente dotato, nel corso dei lavori è scoppiata la pandemia Covid, abbiamo ovviamente già riadeguato il progetto e realizzato il progetto con la compatibilità dei percorsi, la separazione dei percorsi, quindi la compatibilità con le misure anti-Covid, quindi insomma una pagina di buona sanità pubblica che stiamo oggi iscrivendo. Grazie a tutti.